Video installazioni immersive, sonorità barocche e frammenti di dipinti che si materializzano in piccoli set. È la Caravaggio Experience, la fuga e l'indagine, progetto dedicato alle opere e alla maestria del pittore Lombardo, che ha lasciato tracce della sua arte anche in Sicilia. La mostra si terrà a Palazzo Sant'Elia, a Palermo, e sarà fruibile fino al 30 giugno. Caravaggio Experience è concepito come un'esperienza soggettiva ed emotiva per il visitatore. È uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di 45 minuti circa, che si snoda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo. Un coinvolgimento speciale che è reso possibile dall'utilizzo di una tecnica di proiezione del tutto innovativa. La video installazione è divisa in una serie di stanze. Si parte con una sala didattica introduttiva al percorso, arricchita con elementi scenografici ispirati alle opere di Caravaggio, dove il pubblico potrà entrare in scena e potrà fotografarsi come i personaggi delle opere. Tra le 40 opere in proiezione non mancheranno i riferimenti alla presenza di Caravaggio a Palermo, oltre alla natività realizzata per l'oratorio di San Lorenzo, rubata nel 1969 e mai ritrovata.